eccoci ha iniziato c'ho gianfranco spesso prima prego vai gianfranco coi punti prego allora siccome io dal da piccolo sono sempre al rischio di morte ho iniziato dopo poche ore che sono nato che sono arrivato a casa mi stavo bruciando vivo sul letto perché c'era una stufa a gas a fianco a me la bombola era difettosa mai successe bombele difettose cosa rarissima e parte il fuoco esplode questa bombola poi vuoi accennanato e quattro ore arrivato da casa era appena uscito dall'ospedale ok poi ho fatto parecchi incidenti maggiormente mortali nessuno si spiega come se non uscivo vivo dalla macchina o dal motorino da qualche sia infatti per diciamo una cartella clinica di una decina d'anni fa qualcosa in più io dovrei stare paralizzato sulla sedia a rotelle non la migliore delle ipotesi mentre io mi cammino muovo e faccio tutto nessuno perché ma perché sei caduto hai battuto la schiena cosa è successo ma granici ma incidenti stradale ho avuto otto trauma granici otto in otto incidenti esatto ok e poi che ne so da quando ero ancora incinta queste sono cose che giustamente consigliandomi con la mia amica mi ha detto che possono intuire quindi non so ero incinta mia mamma era incinta di me e ammazzò un serpente stringendosi nella pancia che era aveva in grembo me non so se possa essere una causa non ho capito scusami lei ha ucciso un serpente mentre ti aveva in grembo con le mani allora lei aveva in grembo me questo serpente si avvicinava verso mia mamma in direzione mia mamma si strinse nei fianchi e questo serpente morì gli dissero strinciti nei fianchi che il serpente muore lei lo dice che il serpente morì ma è un detto di giù cioè perché è un detto è una cosa reale a una cosa accaduta realmente a me a mia mamma quando ero incinta di me sì sì questo sì però lei lo dice che è un detto forse questa la domanda di questo volevo intendere sì non è un detto gli era stato detto di fare così la persona che c'era vicino a altra che era mio padre la persona gli stava vicino e gli vissi stringiti le strinse il serpente morì scusami ma stringere i fianchi che significa far conciano che significa premere in vita stringere in vita invece di scappare lei ha strato il serpente si è fermato ed è morto esatto perché da come mi hanno spiegato perché poi l'ho chiesto con gli anni dice perché essendo tu un anima innocente come se volessi affogare di e muore lui però non so se possa centrare qualcosa però diciamo 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 lo diciamo così poi dietro a tutti questi incidenti io il 70 per cento dei ricordi non ce li ho più ho soltanto una gran confusione in testa ma non non ho ricordi ricordo ben poco tutti ricordi allora distinguiamo i ricordi breve memoria a breve termine medio termine lungo termine quindi breve quello che hai fatto ieri medio quello che hai fatto due settimane fa e lungo l'infanzia si man mano che vado nei nei tratti lunghi perdo sempre di più a breve tempo più ricordo però molte volte faccio in generale sì un po in generale poi ho problemi fisici nel senso non riesco ad ingrassare qualsiasi cosa faccio ho fatto diete cure niente non esiste che mi ingrassi per magro sono 10 kg sotto peso poi ho problema ormonale una disfunzione ormonale che neanche il medico si spiega ossia oltre sosterone basso mi curo si rialza arriva il valore standard che dovrebbe arrivare due mesi si riabbassa di nuovo e devo ripetere di nuovo la cura però è un procedimento anomalo neanche il medico il medico si sa spiegare perché comunque mi capita sempre questo qua poi ho sempre rabbia sempre rabbia però non mi so spiegare perché io mi sveglio con la rabbia mi vado a dormire con la rabbia quindi devo stare attento ma stare calmo a non bere perché sennò vado in escandescenza infatti l'ultimo danno tra virgolette che ho fatto un anno fa bevendo e ho fatto un po di di disastri con la macchina un minato carabinieri mi hanno arrestato era un pazzo furioso era irriconoscibile quindi devo stare calmo tu tu come vizi hai l'alcol e basta no non bevo più da allora non bevo più l'ho tolto l'alcol e proprio perché se mi fa questo effetto è meglio evitarlo non uso droghe non uso alcol non so nulla ok sigarette si o sigarette o piva quello sì ok beh la pipa ci sta con il look non mi viene questo termine accidenti a me aveva voi no proprio no non è ipi suona come ipi vabbè quindi niente torniamo noi e infine ai entità negative che vabbè facciamo sempre perché però lo hai scritto per qualche motivo non so in più un'altra cosa io ho sempre necessità di avere rapporti sessuali non riesco a stare senza ok ok ma perché è scritto incidenti qualcosa in casa o cose del genere non ho capito perché senti perché hai scritto entità negative perché mi sento delle presenze negative all'interno di me non mi sento io negativo però non riesco a spiegare perché è una sensazione che ho addosso sempre e volevi anche vedere le vite precedenti giusto e volevo sapere se sono stato nella guerra di troia se è possibile ok perché infatti perché siccome c'è stata diciamo questa mia amica voleva sapere se già si siamo incontrati in quella vita ok lei lo sa perché ha fatto una sessione con qualcuno lei lo sa perché lo sa lo sa per ricordi ma dei ricordi ok va bene c'è tutto anno il disincarnato e chiamare qualcuno mio padre se se vuoi non è necessario ok va bene gianfranco gianfranco quindi esatto mentre sabrina si mette in posizione comoda io ti disattivo il microfono iniziamo chiudo fine tu lo riattiverà i magari ti fa aiutare dalla tua amica se non lo sai fare alla fine della sessione quando te lo chiederò per il semplice fatto che io non lo posso fare ti posso disattivare il microfono ma non te lo posso attivare perché skype ha deciso così ci posso dare niente finché non cambiano questa regola sciocca io devo fare così te lo disattivo a dopo ciao ok eccoci 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 perfetto metti ti comoda e iniziamo questa sessione per gian fracco inizia a rilassarti io adesso ti faccio un'induzione rapida contando semplicemente da 10 a 1 e mentre lo faccio ti connetti a gianfranco 10 9 8 7 7 8 7 8 5 4 3 2 1 1 1 2 lentamente sempre più pesante bene sabrina dimmi se lo vedi sì lo vedo dal conteggio come sempre è un indiano d'america america se se mi si presenta con braccia concerti e capelli lunghi tipico indiano d'america ok maschio sì maschio ti dà l'autorizzazione fauna mi scrive un sì con il fumo di un di una sigaretta di un una pipa di un sigaro non lo so fumo di qualcosa se scrive insieme mi dice io sono falco qui falco questa è una vita precedente si quante ne ha avute viene 2256 ok questa è una vita di quante vite fa quando me l'hai chiesto a me viene mi sembra come se la sta facendo adesso nel senso è mi sembra parallela non distingo sono tutte parallele diciamo ci sono anche vie varie linee temporali oralti è una domanda che lascia un po il tempo che trova va bene perché falco si presenta a noi chiediamolo a lui direttamente mi dice perché in questa vita ho scoperto la spiritualità in che modo mi mostra questi questa sorta di di sigari di cose che fuma come se tramite questa inalazione di questi queste sostanze che utilizzano entrasse in uno stato di di trans di che lo connetteva quello connette con se stesso mi dice questo che sostanza utilizza distinto mi è avvenuto pioppo però non so se può essere pioppo erbe erbe comunque stanze naturali non chimiche ok andiamo sabrina la causa esoterica del rischio di morte a quattro ore dalla nascita poiché portato a casa dopo il parto il neonato in fascia il bebè viene messo vicino a una bombola che per la prima volta nella storia di questa famiglia ha una perdita e quindi se non ho capito male si incendia è strano mentre me lo dicevi ho visto la scena di un bimbo che è lui su un letto dentro un lettino piccolino dentro una casa e accanto a lui c'è un falco uniforme un falco uniforme come se lo tiene appeso tipo la una fan fasciatoio per il becco come avesse una circogna esatto sì a morire c'è una correlazione tra il nome della pelle rossa e questo falco uniforme se perché lo è comunque molto legato a c'è comunque ai volatili non vedo che viene comunque da questa cosa che sta vivendo questa vita sì assolutamente sì come si chiama questo falco uniforme mi dice falcon ma l'ha fatto il capo dei falconiformi che interferiscono da 2256 vite con gianfranco chi è chiamiamolo e strano mi è venuto un essere diciamo un umanoide con la testa da da uccello però con il corpo umano e le fatto con delle piume che tipo che delle ali che lo avvolgono avvolgono questo corpo ma umanoide come si chiama non è falcon è più su su roderick mi dice roderick gioca ci siamo chiamiamo tutto il bestiario in giù e in su cioè i meno importanti dei falconiformi e iniziamo con questi e poi con le più importanti allora già mentre mi parlavo prima ho visto 4 dl che girano il corpo suo intorno e dentro entrano escono girano con lui assolutamente sì poi mi viene questo falconiforme che praticamente lo vedo lo percepisco come se se lo porta appresso da tanto tempo sempre con lui questo qua dalla nascita da altre vite legato da lui poi mi viene roderick quello lì l'umanoide con la faccia da da uccello quindi il primo falconiforme che si porta in giura falcon se lo vedi fatto anche roderick lavoro sporco chi lo fa ci sono mantili e rettili mantidi stavolta non le vedo no vedo tanti falccia legato ai falconiformi uccelli vedo esseri che comunque perché mentre me lo dicevi ci sono mantidi e altro ho visto altri vedo lui con dei le visualizzo come delle degli uccelli che girano intorno e comunque fanno parte sempre di questo gruppo di roderick come se quando mi ha detto il lavoro sporco ma se fosse legato comunque ad altri di questi come sono fatti questi falconiformi sono uomini con la faccia da uccello sì ma che significano il becco io calorello hanno esattamente la fa immagina una faccia di adesso vedo un corpo tipo una faccia da corvo col becco c'è la testa da la vedo c'è proprio come un corvo ok attaccata qui poi se mi avvicino vedo tipo la collo umano che diventa di piuma cioè come se ci fosse un attaccatura che si trasforma piano piano poi vedo un corpo umano un pochino più più allungato cioè più fino più più lungo più alto e quali te ali ali sì che avvolgono il suo corpo fino a terra quindi le ali grosse lunghe però vedo spuntare se mi sono avvicinato ancora vedo spuntare dei piedi che non sono piedi ma sono fatti a come gli uccelli diciamo la zampetta dell'uccello tre zampette davanti e una zampetta direttamente ok all'epoca del pelle rossa di quando gianfranco e la pelle rossa durante i suoi viaggi chiamiamoli così vedeva qualcosa vedeva questo è lui se si è lì che lui si ha connesso a questi qua perché come se ci fosse stata una sorta di vedo come un accordo uno scambio nel momento in cui comunque lui fumava queste sostanze si connetteva con questi qua qual è l'elemento di accordo di quella vita da pelle rossa cosa ha ottenuto e cosa in teoria ha dovuto dare ma in realtà questi qui stanno sempre intorno quindi è come se tra con energia traggono lo osservano lo gli stanno sempre intorno quello che ha dovuto dare quello che ne ha tratto era questa cioè lui lo collegava a questo a questa sostanza quindi facendo dando questa sostanza è come se vedeva in questi esseri che si presentavano una sorta di come se lui si innalzasse quindi dice io con voi posso sentirmi libero posso stare in un posto che gli piace di più quindi volare in pratica come se lui vedo questa scena dove c'è lui dentro una tenda tipica indiana che fa questa pratica questo rituale e loro che mentre lui fuma loro che arrivano e lui che comunque fluttua come se si staccasse proprio quindi è legato alla sensazione quello che aveva in cambio era questa sensazione di distacco quasi dell'anima come se fluttuasse un pochino che a lui piace o comunque piace ok causa esoterica degli dei tanti incidenti quasi mortali su questi su questi qui come se lui mi viene questa cosa qui è legata alla sensazione di stacco è legata alla sensazione di stacco e sono provocati da questi esseri che gli stanno intorno è come se lui si riportasse cioè ricercasse in questa vita quella sensazione del dell'indiano stranissima questa cosa che vedo però la vedo così tramite gli incidenti che lo fanno staccare come dal corpo dal corpo comunque provocati da questi qua però nella ricerca di quella sensazione lì vedo una correlazione tra gli incidenti e questa storia del del di questo fumo insomma di questa pratica che lui fa in questa vita una ob è una ob e ob è un out of body experience un'esperienza fuori dal corpo esattiva in tanti casi può avere anche con una meditazione di un certo tipo o quando si rischia di morire in ospedale mi sono visto fuori dal corpo queste cose qui lui ne ha avute non ne ha memoria nel mentre sì perché poi mi lo vedo piano piano lo costruisco che me lo fa vedere comunque si cerca questo lui tramite questa questi incidenti diciamo cerca di ricreare con la sensazione che in realtà in quella vita lì gli piace gli piaceva e perché traumi cranici 8 traumi cranici e non si è rotto le gambe e le braccia non ha avuto altro tipo altri tipi di effetti da questi incidenti sempre il risultato è un trauma cranico sinceramente mi viene da dire che come tramite tramite il trauma cranico loro che è una cosa diciamo sì ovviamente pesante ma leggera era tra virgolette rispetto a quello che poteva succedere riescono se a lui lo vede come un trauma crani come come se riescono a non fargli ricordare quello che succede mi viene questo qui comunque lui serve così non vedo una forte correlazione come se lui comunque non servisse in questa maniera servisse sano vivo però tramite il trauma il trauma cranico ho visto una connessione con il discorso del non ricordare perché una cosa che intacca comunque la testa la mente no come se cancellasse in qualche maniera piuttosto che che un altro tipo di situazione fisica il 70 per cento dei ricordi soprattutto quelli vecchi sono scomparsi dalla memoria di gianfranco causa esoterica viene questo viene come se l'anima questa fosse che non vuole ricordare che va bene così cioè come se lei vive questa sensazione di distacco tramite questi questi incidenti collegata alla vita dell'indiano ma fosse lei fosse l'anima che non vuole ricordare perché gli piace così nel senso se lui ricordasse diventerebbe diventerebbe un qualcosa di negativo tra virgolette nella vita di oggi quindi è come se ripetesse questo gioco che va bene così quindi cerca di ripetere questo gioco in questa vita in questo modo tenendo le stesse condizioni della della vita dell'indiano una cosa bella deve essere viene questo ma non è bella perché gianfranco non ci capisce niente non si ricorda nulla si fa dei bei incidenti che senso ha una consapevolezza alta questa parte subliminale quest'anima mi è 35 per cento me c'è un rapporto tra psp e cioè che rapporto certo a psp ma la mia nps come scusa no no spiegavo anima e lo spirito parte subliminale parte tecnica anima e spirito ok la ps milioni 45 lo spirito restante va bene causa esoterica della rabbia di gianfranco come di non riuscire a tenere i retini della sua vita cioè come di basta poco per fargli comunque perdere il lume della ragione mi viene questo mi dice questo ma qual è la causa la causa la confusione di tutto questo sballottare tra una parte e l'altra dimenticanza e adesso è venuto anche abduction comunque quindi il fatto è come se lei si è poco consapevole ma lui si rendesse comunque conto di non riuscire a cioè lui fisicamente non è consapevole ancora quindi è come se non riuscisse a a prendere nella sua vita e quindi c'è feca dopo viene qualcosa con il fegato adesso vedo la cosa sul fegato non so se l'impianto come se fosse arrabbiato per uscire a prendere consapevolezza per non riuscire a avere le retini della sua vita a guidarla nella nella direzione in cui lui vorrebbe è confuso e quindi si arrabbia questo diamo dove sta la rabbia e come la vedi segnato emozionale ho vista subito mentre ne parlavo mentre mi arrivava questa cosa vedo un una sorta di di cilindro dentro a fegato la vedo come un impianto però a livello emozionale c'è il vedo un impianto e poi prima mentre ne parlavo ho visto proprio a livello emozionale fegato tipo un grossato non so se ha problemi ma fegato vediamo tutte le emozioni oltre alla rabbia che gianfranco ci ha fatto notare anche altri maggio corpo emozionale ok rabbia vedo senso di insoddisfazione senso di insoddisfazione di di sé senso di come se gli mancasse la terra sotto i piedi mi viene questo qui come se proprio la sensazione di del mancare la terra sotto i piedi come se non avesse un indirizzo di dove andare non avesse un obiettivo ecco questo migliore è tanto concentrata sulla sulla rabbia sull'insoddisfazione scarsa fiducia in se stesso allora si rabbia soddisfazione scarsa fiducia in se stesso però anzi e per sé non credo più si vedo più insoddisfazione di di una non realizzazione cioè non vedo una sfiducia in se stesso io anzi sinceramente lo vedo abbastanza fermo fermo però come se ne riuscisse a sbocciare cioè a indirizzare le sue energie verso qualcosa di effettivo che poi le dà un risultato finale tristezza solitudine paura queste sono le emozioni a bassa frequenza standard quindi non le dico tutte guarda sinceramente no è chiaro che poi la rabbia la discorso dell'insoddisfazione portano anche a tristezza paura però fortemente vedo rabbia insoddisfazione va bene l'abbiamo analizzate chiediamo subito gianfranco che se vuole eliminare queste emozioni a bassa frequenza così ci diamo un aiuto subito e mi dice assolutamente sì ovviamente bene mostragli come fare come può raccogliere queste energie se fu raccogliere come le vede maniera fisica cioè con un aspetto fisico con un aspetto etereo voglio dire alcune emozioni negative alcuni le vedono come dei fumi altri le vedono come dei liquidi o dei solidi delle sabbie delle palline dei cubetti cose così insomma e può raccogliere li può buttare in un portale definitivo allora vedo vedo lui che mi rimane è rimasto in forma da indiano e prende si toglie da dal suo corpo me li fa vedere come delle foglie nere come se fossero foglie che stanno morte foglie me le me le mostra così le emozioni negative se le se le leva da dal suo corpo e le mette tutte su se le mette sulle mani e adesso me ne sta facendo vedere mi dice lei me le fa vedere così ritiene basta le ha tolte basta in questo momento non me ne sta facendo vedere sembra che me le vuole mostrare come non so se perché vuole non capisco mi viene come se lui ne sta prendendo consapevolezza che le poteva togliere come se non era dice adesso che facciamo dobbiamo se vuole a buttarlo ovviamente apre un buco a forma di c'è dentro c'è dell'acqua che scorre come un fiume e le prende le ha pallottola e le lancia dentro il buco mentre lo fa se ne leva qualcun'altra come se si fosse dimenticato non lo so fa questa cosa qua particolare dice aspetta che ce n'è ancora ok pronto tutto ok bene di chiudere questo portale e di alzare il livello delle proprie emozioni ad alta la frequenza positive ottimismo ottimismo verso il futuro gioia felicità serenità senso della bellezza eccetera 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 vedo intorno all'indiano insomma laura la forma energetica che si alza dimostra questo dell'indiano analizziamo adesso il corpo energetico di gianfranco dal punto di vista degli impianti allora fegato visto prima dietro la nuca qui dietro al collo parte sinistra lo stomaco le piante dei piedi mi vedo le piante dei piedi di entrambi basta ok quelle alla nuca e se non capito male ce n'è un secondo nel collo parte sinistra che funzioneranno il discorso della della memoria di questo tramite questa roba qui è come se loro comunque sti far con i formini girano intorno i cancellassero qualcosa ok quelli sotto i piedi cosa servono mi dice a te mi dice mi viene a tenermi fermo come se non potesse camminare fermo nel punto in cui sta quel lo stomaco hanno chiedo a non ti voglio influenzare una correlazione con l'impossibilità mettere peso ma ben un dovere che sono correlate al fegato quindi alla rabbia fegato stomaco come se si mangiasse viene così c'è qualcosa a livello dei genitali allora quando me l'hai chiesto ho visto della d'action che riguardano i genitali ma a livello di impianto no non lo vedo ok quante sono è perso viene sette sette messe ok e riguardano essenzialmente la genitali ok prelievo di sperma no sì è perché non mi piace questa roba quindi la dipendenza sessuale chiamiamola così bisogno di fare continuamente sesso e correlata a questa cosa e se sì perché a me vengono due cose mentre la dicevi uno è uno sfogo della rabbia cioè come se lui avesse tutta questa questa sensazione che abbiamo comunque pulito in questo momento però è come se fosse uno sfogo della rabbia come se la concentrasse molto concentrava molto l'energia negativa tra virgolette chiamiamola così e la dovesse in qualche modo espellare e quindi il solo si espellere scusatemi quindi la sua modalità è questa ok e poi si la d'action si come comunque è come se mi viene lo inducono a per il discorso di esportazione di sperma lo inducono a all'atto e quindi è come se gli rimanesse la sensazione di di dover far farlo insomma vengono queste due cose ok prima ci siamo fermati sul discorso entità saliamo sopra il falconiforme roderick mi vengono dei rettili però strani pure questi lo vedo mischiato sempre con gli umani cioè con gli umanoidi vengono dei rettili enormi a fa con il corpo simil umanoide come se ci fosse tipo una sorta di di alleanza tra questi qua tra questi tizi a formaggio rettili umanoidi e questi falconiformi ma se ci fosse un'alleanza mi fanno mi viene questa cosa qua una collaborazione e sopra salendo che insomma non sono niente di che non lo so è strano mi dite come se fosse in cerchio mi ritornano sempre falconiformi di falconiformi sali sabrina di falconiformi hanno sicuramente dei capi sono dei generali se vuoi ma non sono i capi se salgo su su vedo sempre poi nell'uomo barbudo stato unica strana e la sua aquila se salgo su su cioè quando mi ha detto sali ho visto lui che camminava da lontano mi si avvicinava si ma zeus odino allora io vedo zeus mi dice zeus e vedo odino sul suo braccio sinistro che io lo vedo come un'aquila ma so che udino io vedo questa cosa qua come se fossero insieme adesso li vedo così ok causa esoterica della basso testosterone ogni cura è di fatto in un abduction ok correlazione che in teoria io non capisco tra rabbia e dipendenza sessuale ma basso testosterone teoricamente non dovrebbe essere così dovrebbe esserci una iper produzione che porta a grande desiderio sessuale hanno a grande aggressività rabbia se vogliamo farmi anni che il basso testosterone è dovuto a a qualche cosa che succede nell'abduction a livello chimico mi viene proprio c'è a livello di roba che viene inserita quindi è come una reazione nel discorso del sessuale lo sfoco la vedo correlata tantissimo allo sfoco della rabbia proprio a un suo canale che anche lui ha scelto per per sfocare io vedo questo questa cosa qua il basso testosterone lo vedo dovuto proprio a un qualcosa di chimico mi viene c'è una reazione è come se non quello che viene che gli viene fatto diciamo che gli viene indotto in realtà non fosse molto compatibile col suo corpo a livello proprio fisico chimico di sostanze mi viene questo come se andasse il conflitto come circolo vizioso non so ogni cura è inutile perché di fatto le abduction non finiscono non terminano io credo di sì ok tre vari incidenti abbiamo dimenticato quello del serpente dunque la madre incinta di gianfranco incrocia accompagnandosi al padre già suo marito incrocia un serpente il marito le dice di stringersi nei fianchi e il serpente muore sembra collegata a una specie di credenza popolare per cui se muore il serpente vive il bambino e non viceversa io mentre me lo dicevi è stata la volontà dell'anima della mamma mi viene a far scopo a uccidere il perpente il serpente chi è cos'è rettigiano uno di quelli che esistono adesso attaccati all'interferenza di gianfranco si emigiane che sono collegati alla mamma cioè che sono gli stessi che questo è lo stesso però avviso mentre parlavi ha visto proprio la scena come sarò lì era la volontà dell'anima della mamma quindi proprio la la sua volontà quanti sono gli incidenti sabrina finora mortali e ma scampati finora vissuti da gianfranco più o meno potrebbero anche essere più di quelli che lui ha contato poiché magari non si è reso conto ma mentre parla in è venuto 20 ce ne sono alcuni di cui non si è reso conto faccio un esempio uno sta guidando una macchina dietro che io non vedo praticamente a rischia di venirmi addosso ma non mi viene addosso per 25 25 e se non facessimo questa sessione quanti altri dovrebbero arrivare gli incidenti mortali almeno il tribuniano altri 50 75 75 e come se lui dovesse continuare cioè se non si fosse reso conto di di dover comunque prendere in mano le redini e di fare qualcosa come si doveva continuare a tenere questa situazione che gli dà una sorta di equilibrio ma che equilibrio non è ovviamente va bene vediamo velocemente se nelle 2.256 vite precedenti ce n'è una vissuta durante la guerra di troia allora mentre parlavi ho visto lui e che combatteva con una sorta di che parla di troia mi viene lo vedo vestito da crociato non lo so combatteva uomo contro gli infedeli lo vedo nel periodo delle crociate io a noi in una vita era un vestito proprio con quella croce che c'è una sorta di cosa davanti con una lancia a mano con l'elmetto che combatte contro si contro altri altri che sono vestiti come lui però non riesco a distinguere bene le fazioni vedo questo ok in questa vita c'era la sua amica che con lui sua amica si la vedo da prima cioè quando ho iniziato a vedere questa vita qua e la sua amica era un combattente che combatteva con lui stava al suo fianco era un amico un amico di di combattimento insomma se lì alle crociate maschio di alle crociate si che hanno era più o meno 1270 milioni va bene chiamiamo il padre di gianfranco lo vedo dentro come si sta viaggiando dentro un oblo c'è la quando l'abbiamo chiamato è come se si è girato un signore con una tuta tipo strano tipo quella delle degli astronauti è come se da dentro sto blocco quando l'abbiamo chiamato l'ho chiamato lui si si è girato e si si è accorto che lo stiamo chiamando come se sta viaggiando ma l'oblo partiene a cosa una nave è una lanicella si tipo cioè io vedo una palla di vetro tonda sfera e lui dentro che sta viaggiando con statuta a mo di astrona le dove mi viene luna sta andando sulla luna dice verso la luna ma l'astronave collegata a cosa a chi la guida lui e sua e lui sì sì a lui e lui se mi distanzia un pochino perché mi sono avvicinata la vedo questa palla questa sorta di astronave dove c'è dentro lui che sta dentro un'altra struttura tipo disco enorme che vola vedo questo insieme a lui ce ne stanno ci sono altre altre anime che bambino ecco la propria stranale palla se come sembra una trascina cioè come se sta andando con quest'astronave enorme che contiene altre astronavi a palla di vetro che vanno lì cioè è una ciambella la grande è un una semisfera la grande ai le contiene quindi le più con terascina nel senso che le contiene quindi lui pensa di guidare la navicella ma nella realtà viene non la guida si è esatto si è collegato il padre a gianfranco o alla terra in qualunque modo luoghi persone animali piante oggetti mamma moglie sua madre e sua moglie sua madre in che senso sua madre sarà morta scusami vole mamma di gianfranco di gianfranco di gianfranco moglie moglie di questa vita si chiedo un cenno a gianfranco tua mamma è vivente sì o no sì quindi è attaccata la mamma qui sulla terra si alla persona a una parte del corpo è strano non so se c'è quello che vedo è questo io vedo che lui sta facendo questo viaggio e nel contempo mentre dicevamo che cosa attaccato ho visto la una signora e alla schiena cioè come se si spostasse tra questo viaggio e questa e andasse dalla ma dalla moglie di questa vita toccandogli la schiena mi viene questo quando dice che è nato attaccato a un umano vivente quasi sempre o è la schiena o le spalle o anche la testa la cervicale la testa sì non è quasi mai non so il petto i piedi di solito è la schiena un po come se vuole essere nascondersi ma ma attaccarsi rimanere attaccati qual è il motivo chiedeva lui per quale del motivo per il quale attaccata la mamma sua moglie non vuole stare lì dove sta andando però non riesce a capire come fare come se la moglie fosse un collegamento di un qualcosa di reale che lo distacca da questa sorta di esperienza che in qualche modo sta decidendo di fare ma non riesce a staccarsi ok chiedi al padre di gianfranco sabrina cosa gli piaceva in vita come oggetto fisico quindi non so un cibo una mela medici aereo volare mi dice ok dagli offri un aereo un aeroplanino grande non ti sento più tutte tutte quelle ho sentito adesso la domanda ok ok la sera però venuto non ti ho sentito dai offri un aeroplanino contenente le informazioni delle mie sessioni a questo uomo e vediamo cosa fa è sceso da questa sorta di di navicella che nel quale stava si è avvicinato prende l'aereo aereo planino e fa come come i bambini quando lo fanno volare un aeroplanino ci gioca adesso si sta giocando sta sta capendo sta osservando se vuole può aprirlo e vedere cosa c'è dentro per assimilare la informazione per esempio fa un po di difficoltà aspetta ok adesso lo ha già staccato le ali lo sta facendo a pezzettini guarda dentro e dentro trova me le mostra così trova tutte caramelline quelle quelle di liquidi di liquidizia come se gli piacessero così mi fa vedere delle caramelline di liquidizia e inizia a mangiarne una una lento però è ok tu però ti puoi spostare sulla linea temporale quindi vai al momento in cui ha finito tutte le caramelline a tutta la mangiato tutte le informazioni che vuole acquisire dimmi se sono tutte quelle che conteneva l'aereo planino e dimmi cosa fa si è mangiato all'aereo planino prima tutto l'aereo planino adesso mi sono spostata un pochino e la tuta della d'astronauta non ce l'ha più ha dei pantaloncini corti lo vedo a pantaloncini corti neri con una magliettina come se dice così sono più mi sento più leggero adesso lo vedo con dei pantaloncini corti neri calzettoni un ciabatte mi mostra così non lo vedo più è a suo agio ecco mi dice mi fa vedere questa scena come per dirmi che adesso lei a suo agio ok si è staccato dopo aver mangiato questa informazione dalla moglie quando me l'hai detto sì ho visto che non ci va più mentre prima vedevo proprio la scena di lui che gli stava sulle spalle come per cercare un attaccamento a lei insomma la terra adesso io la scena non la vedo più ok di che si deve staccare dalla moglie da tutto quello che è terreno e acquisendo queste informazioni si deve aprire un portale andarsene da quella navicella da quell'avventura diciamo etero decisa e decisa da altri apprezzo un portale ad andarsene nel posto in cui davvero lui vuole andare e deve andare mi dice io voglio volare quindi apre un portale mi mostra un elicottero dice io con l'elicottero voglio sorvolare il mare voglio fare questo adesso io ma che cosa fa monta sull'elicottero e sta cercando di accendere lo accende sta già dall'altra parte accende l'elicottero che inizia piano piano a girare l'elica e si innalza sta in un posto sta in un posto se l'elicottero lo vedo dall'altra parte del portale su una spiaggia e lui mi dice io voglio andare a vedere il mare da sopra adesso da solo il mio elicottero mi dice questo va nel suo portale quindi è già nel portale perfetto vuole lasciare un messaggio gianfranco sinceramente l'unica cosa che vedo che lui vuole volare adesso non vedo già di là non riesco a lottiamo chiudiamo il portale e chiediamo una cosa molto semplice a gianfranco tutto quello che abbiamo visto vuole lasciarlo così come la sua situazione no lui è qua per liberarsene ok allora andiamo al cluster allora lo accompagno mi porta in una stanza dove ci sono tutte scatole ci sono tutte delle scatole da da scarpa come le scatole delle scarpe e in ogni scatola ci sono un cumulo di fogli me lo mostra così lo il cluster ogni scatola che mi mostra ci sono tutti fascicoli di carta fascicoli carte come se ogni scatola fosse la vedo così un contratto una vita un contratto cosa fa è come se adesso apri le scatole si sta rendendo conto come si sta prendendo consapevolezza di quello che è successo di quello che che c'era dentro le scatole le guarda le me le tira fuori le apri le scatole tira fuori sti fascicoli e me li mostra me ne sta mostrando non te ne deve tanto mostrare deve solo decidere cosa farne quelli sono tutti i contratti stabiliti nelle sue 2000 rotti vite li può eliminare questo non significa eliminare l'esperienza delle vite o le vite stesse significa soltanto eliminare il la parte condizionante le condizioni che ha stabilito con entità di vario tipo sì sì no li vuole eliminare era come se facendo quel gesto in lui ne ne li prendeva consapevolezza di quello che era successo ecco mi dice questa cosa qua ok allora che le elimini si apra un portale definitivo è tutto dentro è il solo la sua modalità del portale all'acqua apre questo portale dove c'è quest'acqua che risucchia come un come un lago che c'è un vortice me lo fa vedere così apre questo portale e prende adesso ha preso tutto lo la struttura che continuano in queste scarpe si scarpe queste scatole la scarpa e la butta dentro il portale vanno via vabbia tutto subito un vortice poi adesso si è trasformato in luce prima era l'indiano adesso fatto questo ho visto lui della fisionomia di oggi andiamo all'avatar come lo vedi l'avatar e lo vedo piegato con la testa sulla sul computer stavolta come se fosse che strano una sorta di disperazione adesso avatar come per dire tutto finito a un viso lavata allora quando mette un viso a un viso l'avatar l'ho vissessi alzato perché lui aveva la testa privata sul computer si è alzato e ho visto una faccia tipo maschera bianca tipo fatta di cera senza il viso quindi senza li sono completamente finito gli occhi sono non di una maschera o sono zero maschera cioè no non c'è non c'è vedo proprio dei liscio se non c'è un segno che fa qui c'è un occhio che indica che lì c'è un occhio proprio piatto no è piatto si bocca uguale chiusa cioè non c'è naso a una protuberanza non c'è nemmeno no è proprio tutto liscio è proprio come li vedo io cioè sembrano quei manichini di stoffa dei chiamano insomma dei sarti se uno vale di stoffa leghiamo pupazzetti infatti che a volte sembra quasi che abbiano due linee una verticale una orizzontale di filo no a volte sembrano cucidi dici esatto va bene tutto ingratta cosa succede allora prende questo pupazzetto questo avatar lo 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 trasforma lui con le mani in un pupazzettino piccolo piccolo e lo butta nel suo portale ad acqua a vortice di acqua glori succhia via e poi mi fa vedere appresso al pupazzetto è come se il portale si risucchiasse completamente il computer la scrivania e la sedia stavolta vedo anche la scrivania la sedia bene tutto nel portale definitivo torniamo a noi e vediamo se i 4 edl le varie abduction le varie robe tutte le interferenze gli impianti tutto esiste ancora no mentre parli parlavi mi succede sempre questa cosa qui è come se facciamola lui ha fatto l'azione mentre me lo chiedi mito io torno indietro e vedo tutto quello che tu elenchi che entra nel portale quindi è come se è inglobato nel computer ci sia tutta la roba che lui non vuole più c'è ancora la vita del pelle rossa falco allora sì la vedo però come se non vedo più che lui utilizza quella sostanza per per fare quella pratica c'è ancora la vita nelle crociate c'è ok come lo vedi gianfranco adesso vedo che sta andando in bicicletta con la fisionomia di oggi mentre mi dicevi come lo vedi lui mi si ha mostrato che vuole andare in bicicletta mi dice mi mostra questa scena perché mi dice come se con la bicicletta adesso posso è un mezzo che ho acquisito che io posso andare posso mi può aiutare a camminare più veloce posso fare di più è un mezzo che mi aiuta a camminare mi dice tramite recuperare il tempo perso dice che adesso vado più veloce con questa cosa con la bicicletta vai andare in bicicletta la sua consapevolezza aumentata 97 per cento 97 ok il rapporto psp è sempre 45 55 53 la ps abbiamo finito c'è solo un messaggio che la parte subliminale l'anima di gianfranco vuole lasciarsi dice io devo andare in bicicletta adesso perché con la bicicletta corro di più e poi mi sta dicendo mi piace che mi sentire percepire il tento sul mio viso che mi fa capire che sto camminando che mi sto muovendo verso una direzione voglio andare in bicicletta per scoprire nuovi posti col mio nuovo mezzo che ho compreso mi possa aiutare basta come lo vedi bene bicicletta è una bicicletta bella di colore rossa te lo volevo te giuro te lo volevo dire mentre male il rossa una bicicletta rossofuoco me la mostra così grande una bicicletta tipo una mountain bike rossa va bene sabrina pronta a tornare sì ok come sempre il conletto chi da gianfranco e come sempre prima del conteggio sai cosa fare ok conto da 15 al 5 tornerai e sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando 1 2 4 e 5 apri lentamente gli occhi buonasera come stasera bene prenditi i tuoi tempi gianfranco stiamo ancora registrando ti chiedo di attivare il tuo microfono che è disattivato ok no no questa è la telecamera l'altro tasto forma di microfono di una volta c'è un tasto con la barra ok eccoci e ci siamo dimmi tutto parli tu adesso ma cosa devo dirti non come è andata cosa metti senti come ti senti che piaciuto non ti è piaciuto sì diciamo mi sento un po più consapevole di alcune cose che già ammettevo sapevo a me stesso però non volevo ammettere tra virgolette diciamo così diciamo così sono sono percezioni che già avevo però che non volevo ammettere sia il discorso sessuale che uno sfogo di rabbia che io in quel quando sto in ospedale che faccio un incidente io sto bene è come se stessi a casa e sono contento di stare in ospedale non sono triste è una sorta che mi chiamano andare in ospedale è un discorso un po strano un po condorto però di solito nessuno vuole andare in ospedale invece in ospedale sto bene ti senti a casa? sì perché ricordi la condizione ok va bene va bene adesso arriva il momento di metabolizzare la sessione di continuare a guardare i nostri video mi raccomando in modo tale da capire molte più cose possibili trova il tempo non so se la sera sono video che si possono anche ascoltare non vanno assolutamente solo cioè necessariamente visti non c'è quasi nulla da vedere se non qualche espressione del viso ma insomma ti chiedo conferma nel video se appunto la pubblichiamo con il tuo riquadro censurato e basta sì ok allora restate tutti in linea ancora un secondo io fermo quella registrazione grazie a tutti ciao ciao